Cos'è che c'è invece e che io non ho citato e mi scuso per non averlo fatto perché sono alcuni argomenti che sarebbe interessante ma altrimenti la facciamo troppo lunga e ho promesso di restare non troppo nel merito per gli addetti ai lavori. Per la prima volta si parla di regolare una legge sugli asili nido e sulle scuole materne, la cosiddetta 06, sta nella legge delega. Si parla di diritto allo studio per i ragazzi che non ce la fanno. La scuola è o dovrebbe essere il luogo nel quale le diseguaglianze vengono cancellate in partenza. Tutti devono essere messi nella stessa punto di partenza. Poi per carità di Dio chi è più bravo andrà più veloce, chi è meno bravo sarà aiutato, ma il punto di partenza deve essere uguale per tutti. Questo è il motivo per cui il diritto allo studio è uno delle questioni fondamentali della nostra riforma. La scuola digitale, la scuola digitale che non è semplicemente le lavagne interattive, le lavagne multimediali. La scuola digitale è la banda larga, è la capacità di pensare multitasking, è però contemporaneamente la voglia di emozionarsi di fronte alla realtà, non soltanto alla realtà virtuale. E il tutto si conclude con l'atto che sto per firmare, che firmerò oggi pomeriggio, la circolare ai ministri, al ministro dell'economia, al ministro dell'edilizia scolastica, vale a dire al ministro dell'infrastruttura, al ministro della scuola, che porta oltre 4 miliardi di euro di nuovi investimenti sull'edilizia scolastica in Italia. Allora va tutto 4 miliardi non soltanto di nuove scuole, ma di edilizia scolastica in quanto tale. Io vi domando e mi domando, possiamo discutere serenamente di questa riforma della scuola? Non può essere la riforma del prendere o lasciare, perché la scuola non appartiene a nessuno, neanche al governo, o meglio appartiene a tutti, cioè alla nostra comunità. Però possiamo anche avere finalmente il coraggio di dire che se facciamo questo lavoro sulla scuola poi si cambieranno le cose che devono essere cambiate, ma se ridiamo importanza e centralità alla scuola, forse l'Italia torna a crescere. Io non mi accontento del PIL che fa più 0,3. Io voglio che l'Italia torni a dare alla scuola il ruolo che merita, cioè la centralità nel futuro, perché chi va a scuola, chi ha nel cuore le ansie, le esigenze, i sogni dei propri figli, sa perfettamente che la scuola non è una delle tante questioni su cui si possono fare battaglie politiche. La scuola è il luogo dove o si cambia un paese o si resta costretti nella palude e nel chiacchiericcio di tutti i giorni. Io vi chiedo, discutiamone, parliamone, ma facciamole sulle cose concrete, non sugli slogan ideologici.